La Giunta regionale proprio ieri ha deliberato il riparto dei fondi arrivati dal governo, stanziati dal governo Gentilioni per 11 milioni e 300 mila euro che vengono assegnati ai comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private. Erano fondi attesi da anni perché dal 2003 il governo Berlusconi aveva interrotto questo tipo di finanziamento. Le cifre sono importanti, tra l'altro a noi sta molto a cuore questo tema. Io stesso ero stato relatore in aula nei mesi scorsi per una mozione che aveva come obiettivo il ripristino di questo fondo e quindi dobbiamo ringraziare il governo Gentiloni per aver assegnato queste risorse. Sono 11 milioni e 300 mila euro, 3 milioni e 800 mila euro arriveranno alla provincia di Pesaro e Urbino tra cui le voci più importanti un milione al comune di Pesaro, 594 mila euro al comune di Fano, 170 mila euro al comune di Urbino. È una risposta importante perché le famiglie attendevano da tempo questi fondi, queste risorse. La Regione ha fatto tutto quello che doveva fare per cui credo che il tema della disabilità, che è un tema importante e che noi sta particolarmente a cuore, abbia una risposta concreta e definitiva.